Quando ci sarà la ripartenza sarà importante fare accordi con le compagnie aeree e stimolarle anche a livello governativo per fargli pagare meno tasse possibili aeroportuali, perché le compagnie che sono con l'acqua alla gola decideranno di atterrare in quegli aeroporti dove il costo delle tasse aeroportuali sarà più basso, perché sono alla canna del gas e quindi è importante che ci sia un intervento di questo tipo. Io l'ho già detto a livello ministeriale, ho chiesto al governo un intervento da questo punto di vista di sostegno al sistema mobilità aeroportuali con un fondo specifico, perché se non si farà questo possiamo fare tutti gli accordi commerciali che vogliamo, ma se le compagnie aeree decidono invece di atterrare a Venezia di farlo a Lisbona piuttosto che a Parigi o a Madrid, noi continueremo a rimanere in difficoltà.